Mi si chiede come fare a trasferire le foto dal cellulare alla chiavetta USB, senza avere un PC. Tutti hanno almeno una presa, che è quella che serve per caricarle. Può essere usata anche per trasferire dati dal cellulare ad un PC. L'unica soluzione possibile è dotarsi di un apposito adattatore. Accertati che il tuo telefono supporti la tecnologia che consente di trasferire le foto. Se hai Android, accertati di avere almeno Android versione 4.4 e che il telefono supporti la tecnologia OTG. Ci sono delle app apposta per fare questa verifica. Controlla il tipo di cavo che ti serve. Potrebbe essere micro USB oppure Type-C. I due connettori hanno forme molto diverse. Se hai un iPhone, verifica di avere almeno iOS versione 13. L'adattatore per iPhone deve supportare la tecnologia MFI. Prendi l'adattatore, collegalo al cellulare e collega la chiavetta USB dall'altro lato. Apri l'app foto e sposta le foto sulla chiavetta USB.